Un arrivo in volata per l'edizione 2018 della Route du Rhum. Dopo 7 giorni, 14 ore e 21 minuti, lo skipper francese Francis Jouillon ha battuto di appena 7 minuti e 8 secondi il connazionale François Gabbara. Un duello all'ultima onda in questa leggendaria attraversata transatlantica in solitaria che si svolge ogni 4 anni. Dopo una settimana di navigazione dalla partenza di Saint-Malo in Bretagna, Francis Jouillon, sul suo trimarano Idexport, è arrivato al traguardo di Buonapitra a Guadalupe alle 4.22 del mattino di questo lunedì. Per un'ora e 9 minuti di vantaggio, Jouillon, 62 anni, batte anche il record della traversata, stabilito nel 2014 dall'Oic Peron. Ora l'appuntamento per un nuovo record sarà per la Route du Rhum 2022.